Qui siamo nella padana, a Mantua, caldo e umido. La zona di progetto è lì vicino, siamo in campagna, qua è lì, ci ho trovato prima. Questa è l'area di progetto, sono più o meno 300 metri quadri. Questo ha il calcolo dell'impatto ambientale per tutte le strutture. Allora qua ho fatto un'analisi con parete di paglia, copertura di paglia, vetrocellulare, le strutture lamellare e la fondazione in calcio spruzzo ed ha meno 35.000 kg di CO2 e per produrlo consumo 262.000 Mgj. Se invece l'edificio l'avessi fatto in muratura con il servizio a cappotto, avrei consumato 50.000 kg di CO2 e per produrlo 840.000 Mgj. Perciò evite 80.000 kg di CO2 in più per essere costruito, consuma tre volte più energia grigia. Ecco perché utilizzo la paglia. Qua ogni cliente utilizzo la paglia, per questo motivo qua. Hai fatto anche un'analisi sui costi? No, quella no. Annalisi sui costi potrebbe così a spanne, se dovessi fare un edificio tradizionale con materiali naturali costruirebbe di più. paradossalmente costi di più. E l'atterizio? C'è un edificio all'atterizio? Sì, l'atterizio più cappotto ne riesce, più intorno ai cintarni, se fossero argilla e calce, mi costa di più alla fine. Questi sono gli elementi da porre attenzione nel progetto. E' la tavola, no? Vabbè, non c'è la tavola, ma è proprio easy dalla struttura. Ecco, il cammino. Tutta questa falda è fotovoltaica, viene disposta appunto per fare la batteria di accumulo per la macchina elettrica, eccetera, eccetera. Questo è sempre l'analisi dei punti termici della fondazione. Questa è la bozza dello strutturale, la struttura in legno. Ci saranno 10 metri cubi di legno qua dentro. Questa è sempre la struttura della copertura e la sezione della casa sempre solo struttura. E questo è l'impianto. Qua non c'è WMC, non c'è niente di quello che propone il mercato. Il comitente è un ingegnere elettronico che da mattina e sera fa parti elettroniche per meccanismi ma non voglio vedere nessuna cosa di domotica bizzaro.